Un protocollo con la città di Matera, capitale della cultura 2019, è stato siglato nei giorni scorsi a Cuccaro Vetere in occasione del premio Le Città del Palio. Si tratta di un protocollo d'intesa tra il Comune di Matera, la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il GAL Casa Castra. L'intento è quello di arrivare ad un'importante collaborazione tra il Cilento e la città di Matera in occasione dell'evento mondiale del 2019. Il protocollo di questa sera, voluto dalla Fondazione Matera con il GAL Casa Castra, credo che sia un passo decisivo in questa direzione. La capitale europea della cultura è una grande scelta di investimento del Paese. Ci sono luoghi in giro per il mondo che hanno cambiato volto dopo questo riconoscimento, tante comunità piccole e medie, quindi non sono i luoghi più noti, sono quelli meno conosciuti che diventano poi un punto di riferimento anche per il turismo mondiale con questo tipo di riconoscimento. L'obiettivo è quello di farlo diventare non solo un patrimonio di Matera, della Basilicata, ma di provare soprattutto nelle regioni limitrofe e nei territori limitrofi come questo ad estendere quel grande messaggio che arriverà nel 2019. Devo dire che su questo non vedo una grande attenzione di altre istituzioni, quindi è meritorio il compito e il lavoro che stanno facendo il Comune di Cuccaro, ma soprattutto il GAL Casa Castra che li coordina tutti qui in questa area, proprio per portare qui la Fondazione Matera e per portare qui il messaggio che Matera 2019 deve diventare un grande patrimonio da sfruttare per tutto il mezzogiorno. Se riusciamo a fare questo noi prevediamo, o meglio noi, loro, gli organizzatori prevedono almeno un milione di persone nel 2019. Questo flusso di persone dovrà diventare credo di interesse per tutto il mezzogiorno, soprattutto per le regioni più limitrofe e ovviamente le istituzioni locali in questo caso, accompagnate anche da noi, dal sottosegretario Di Filippo, che è presente questa sera, che ringrazio, possono fare in modo anche che questo investimento fatto dal Governo italiano per il 2019 su Matera possa diventare un investimento per tutta quest'area. Oltre all'onorevole Simone Valiante, la serata ha visto la partecipazione dell'onorevole Vito De Simone, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Beh, è un significato straordinario perché nella storia del Sud veder riconoscere una identità che viene generalmente considerata una identità debole, frutto di una storia anche complessa come quella di Matera, dei Sassi, che era un luogo marginale, era un luogo che negli anni 50, negli anni 60 è stato il luogo tipico delle spedizioni antropologiche per descrivere le debolezze e anche le difficoltà nelle quali si trovava il Mezzogiorno. Bene, con una formidabile nemesi storica quella parte lì del Mezzogiorno diventa oggi un vessillo trainante in termini di opportunità e di sviluppo, non sono parole, Matera in questo periodo sta vivendo esattamente questa esaltante stagione di opportunità in termini di sviluppo, di occupazione e quindi è un'esperienza esempio emblematico con il quale io spero il Mezzogiorno saprà fare i conti nei prossimi anni perché da Matera si possono replicare storie virtuose allo stesso modo in tanti altri punti del Mezzogiorno.